Vi mostro a questo punto come fare la julienne di una carota utilizzando un coltello nakiri. È una tecnica più giapponese che occidentale. Iniziamo a sportare un leggerissimo strato di carota per crearci un supporto che ci dia stabilità di carota stessa e poi prepariamo le nostre fettine. Le facciamo tanto più sottili quanto più sottile vogliamo la julienne. Il nakiri è in grado di fare fette veramente molto sottili. Io ne preparo soltanto alcune. Eccole. Le potete vedere. Sono estremamente sottili. Poi potete prenderne un paio e averle accavallate così per andare a fare un lavoro di questo tipo sarà estremamente più preciso del secondo che vi mostrerò però ovviamente un pochino più dispendioso in termini di tempo. La julienne è però perfetta. Spero che nel video riusciate a vederle. Eccole qui. Adesso queste le mettiamo via. Tagliamo ancora una fettina giusto per avere un po' di possibilità per voi da vedere. L'altro modo, un po' più veloce, è quello di accavallare le vostre fette, averne tutta una serie, si può riempire tutto il tagliere e poi procedere così. Normalmente il nakiri lo teniamo in questo modo. e poi si va a muovere in città. Su tutta la fila del carote, sino ad esaurimento. L'ultima scattata così non rischiate di farvi male tagliandovi le unghie. Ed ecco ancora. La julienne. Ovviamente leggermente più grosso la mano, eventualmente qualche parte un po' più grossa la rimuovete. E abbiamo finito.